So bene che occorrono programmi mirati, investimenti ben selezionati, più investimenti di quanto non abbiano consentito in questi anni i limiti di bilancio a causa di una crisi economica finanziaria di straordinaria e eccezionale gravità e durata, dalla quale siamo finalmente usciti. Altrettanto importante è passare da una logica di emergenza, di interventi tampone, a una logica di medio e lungo periodo, tenendo naturalmente conto che le risorse si recuperano anche evitando a tutti i livelli sprechi e migliorando i standard di efficienza.